Hanno preso il via i campionamenti delle acque del fiume Po e dei suoi principali affluenti per valutare la qualità e la salubrità delle acque. Il monitoraggio andrà alla ricerca di farmaci, pesticidi, prodotti per la cosmesi e cura personale lungo l'asta del corso del fiume più lungo d'Italia. Non abbiamo una legge che ci dice quale sia un quantitativo che può essere presente senza dare dei rischi. E quindi è importante monitorare la presenza di queste sostanze nell'ambiente per poi valutare la possibilità di eventuali rischi. Monitoriamo anche la presenza di antibiotici tra i contaminanti emergenti. Invece per questa classe di composti è molto importante valutarne la presenza nell'ambiente perché è già stato rilevato dalla ricerca che vi è una connessione tra la presenza di queste sostanze e lo sviluppo o la promozione di antibiotico resistenza. E quindi ha una ripercussione diretta sulla salute umana. L'Istituto Mario Negri, che cura il progetto, da tempo studia gli inquinanti emergenti. In passato era infatti emersa anche la presenza di droghe e di cocaina. Nell'ambito del progetto Aquapol, l'Istituto si occuperà di effettuare le analisi chimiche di una vasta gamma di contaminanti emergenti, compresi i PFAS. Anche queste sostanze sono presenti e per queste sostanze ci sono delle sorgenti puntiformi, quindi locali, dovute prevalentemente a presenza di industrie. Grazie. Grazie. Grazie.